Il Palasporte Comunale Albino Ciarapica di San Severino ha ospitato lunedì 17 febbraio la sfida provinciale del campionato scolastico regionale Trofeo Scacchi, scuola della Federazione Scacchistica Italiana, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica, la Torre degli Smeducci, con sede proprio a San Severino Marche. Il torneo era diviso in campionati studenteschi per le scuole primarie e Trofeo Scacchi, scuola per quelle secondarie. 300 giocatori in totale, provenienti da 15 istituti comprensivi della provincia di Macerata, dove il Circolo Settempedano svolge la propria attività a scuola la mattina, come se fosse un'ora di italiano o di matematica. Gli scacchi infatti, disciplina sportiva associata al CONI, sviluppano logica e concentrazione, nonché la creatività, l'immaginazione e l'educazione alla competizione.